Sono Rémy Magnemestre, detto Rémy John Alarac. Ho giocato dal 2007 al 2010, tre quarti centro o terza linea ala. Il ricordo più bello è stato sicuramente la vittoria contro la Neroniana nel derby del 2008 e poi negli spogliatoi c'è stato Champagne e Marsigliese che ancora mi tornano i brividi solo a pensarci. Una cosa bella che mi rimane è la linea che avevamo dietro con Luca, Davide, Peppe, Mauro, Peleo, Federico Biancu, Federico Salvatori, Francesco De Nicola, Alfonso che faceva da jolly, quindi non so se l'ho detto. C'era una cosa bella lì dietro, una sintonia, una specie di fiducia che si era creata che mi ha fatto crescere. Sì, una delusione è stata la sconfitta nella Copalazio a Frascati. Di ricordi brutti, non mi ricordo onestamente, forse la memoria fè difetto. Qualcuna l'avrò segnata, ma non mi ricordo bene. Una soddisfazione personale che mi sono tolta è stato un drop l'unico della carriera e che mi rimane a livello personale. Ancora mi fa ridere che durante una delle grigliate al campo il buon Claudio Maruffa, cioè tardi nella notte, a un certo punto si sbatteva la testa contro il tavolo per un gioco e piangevo da ridere. È stato fantastico. Grazie Claudio per questo momento che è ancora un regalo della vita. Grazie ragazzi, un abbraccio a tutti quanti, statemi bene e forza RAC! Mi devi dire ciao. Ciao. Teresa mi da papà. Ciao. Ciao. Ciao.